E adesso un pezzo un po' particolare, prima mi è stata fatta una bellissima presentazione, adesso tocca a me farla. Vedrete questa persona in una veste un po' diversa, un po' comica, di solito è sempre comica, ma adesso un po' pure non lo so, lo dovete vedere voi perché io proprio non gliela faccio. È un omaggio a tutti voi, creiamo un po' d'atmosfera. Se stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché ho bisogno di te, anche se non lo sai. Ah, se stasera sono qui. È perché so perdonare, sta sciupita, sciupita. E perché voglio stare con te, oddio, anche se non lo sai. Per venire qui è stato come scalare le montagne più alte del mondo. Ed ora che sono qui, voglio dimenticare i ricordi più trissi giù in fondo. Ah, se stasera sono qui. Non te lo dico qua, papà, ti preoccupate. È perché vi voglio bene. È perché voglio stare con te. anche se non ci sei, grazie, vi amo. Grazie, grazie a Marco Colibazzi, una cosa veramente inquietante. Grazie, non dormirà più nessuno stanotte. Grazie a Marco Colibazzi. Grazie a Marco Colibazzi. Ed ora, sì, prego. Grazie, troppo buono. Giochiamo, giochiamo, giochiamo. Il Varietà, il Varietà, giochiamo al Varietà. Ma come no. Prego, che abbiamo? coloro. Grazie a tutti.